Oggi in campagna due panini, ecco cosa mi ha preparato mia moglie, panini con peperoni, ma più che papè, più che panini, che la focaccia, benissimo focaccia. Soprattutto è l'appetito, la fame e l'energia che consuma, che mi sfrigiona, l'appetito e soprattutto digerisco tutto, questa fame pure la prete digerisce.